Quando gli antichi romani Cerchio e Seno, 29 aprile 2023 Volevo sapere se è possibile se le altre civiltà di cui hai parlato prima, che fanno parte della nostra galassia, sono consapevoli della nostra esistenza? Certo, e vi seguono costantemente, e ne avete avuto nel tempo, quando gli antichi romani credevano e adoravano gli dèi, ma che volete che siano dèi fittizi, dèi di fantasia? Erano extraterrestri, vi stupisce la cosa? No Ecco, è così, però ce n'è una di queste due che vi usa un po' più come strumenti per farvi evolvere, sì anche fisicamente, ma vuole fare questa evoluzione fisica, mentre un'altra pensa solo alla vostra evoluzione spirituale e morale Sì